Prima Ah buongiorno 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 ragazzuoli Socks numero 7 E siamo al giorno di quarantena numero 54954 Radice di 2 Finalmente arriverò a giugno con dei capelli incredibili Potrò farmeli trecce come Heidi Oppure potrei farmeli come quando sembrava uno spacciatore messicano Però senza i tatuaggi Comunque ragazzuoli tre domande Uno perché non avete ancora fatto subscribe al canale Secondo perché non avete ancora cliccato mi piace su tutti i miei video E terzo avete già trovato il vostro congiunto Ma direi anche basta con le s**ate cominciamo a parlare di Christopher Anderson Perché Christopher Anderson è un fotografo con i controc**ti ragazzi Nonostante sia un fotografo veramente molto giovane perché è un fotografo contemporaneo Che nasce nel 1970 in Canada e cresce in Texas Da una famiglia iper religiosa Il padre è un predicatore evangelista In conseguenza loro sono molto molto legati alla religione E anche lui cresce con i valori tipici della religione evangelista Però vive una situazione abbastanza conservatrice Per cui il suo obiettivo principale è quello di viaggiare Perché quando è molto giovane in realtà lui non studia fotografia Non studia arte quindi non si avvicina immediatamente alla fotografia Si avvicina un po' in maniera collaterale perché comincia a lavorare a vent'anni per il Darlas Morning News E quindi nel laboratorio di sviluppo e stampa fotografica lui inizia a prendere veramente confidenza con le fotografie Inizia a vedere il fotogiornalismo inizia a capire e ad essere affascinato da questo mondo Christopher Anderson, ve l'ho già detto, è un fotografo con i controc***i Infatti capisce subito che il mondo del dipendente gli sta stretto Infatti subito dopo trova lavoro in un piccolo quotidiano locale del Colorado Ma lo abbandona dopo poco perché capisce che vuole essere più libero E di conseguenza a metà degli anni 90 quando ha 25 anni trova una bella opportunità di lavoro Allo US News and World Report Che gli dà la possibilità di fare i suoi primi reportaggi fotogiornalistici in giro per il mondo Ma sarà poi nel 99 che avrà la più grande opportunità della sua vita Cioè quella di dover documentare i flussi migratori da Haiti verso gli Stati Uniti Quale idea più geniale poteva avere che non salire su una barchetta di legno a vela Per affrontare una tablessata di 600 miglia in oceano aperto per raggiungere gli Stati Uniti Assieme ad altre 44 persone disperate Lui non scatta tante fotografie all'inizio del viaggio Perché non le sente sue ma questa è una cosa a cui arriverà dopo E a un certo punto del tragitto si rendono conto che sta affondando questa barca E uno dei suoi compagni di viaggio David lo guarda e gli dice Ti conviene iniziare a fotografare perché non abbiamo tante ore di vita ancora Ed effettivamente è una situazione difficile quando capisci che ormai sei destinato a morire annegato nell'oceano Quindi lui le fotografie che fa sono delle foto che lui fa per se stesso Per testimoniare le sue ultime ore di vita, le ultime ore di vita dei suoi compagni di traversata Questo servizio gli verrà il Robert Capa Gold Award E fortunatamente lui riesce anche a ritirarlo questo premio Perché vengono avvistati da una moto vedetta della Guardia Costiera Americana Che li trae in salvo, li portano sulla terraferma Però non è contento nonostante abbia rischiato la vita E infatti non contento nel 2000, cioè lo stesso anno, decide di andare a Gaza A fare un reportage sui lanciatori di pietre Che sono dei ragazzini che hanno tra gli 8 e i 15 anni Che lanciano le pietre contro i soldati israeliani, ok? E quindi lui si fa testimone di una situazione civile, sociale, altrettanto difficile Forse più difficile di quella che aveva vissuto ad Haiti Perché questi ragazzini lo fanno, sono dei guerriglieri Rischiano di prendersi una pallottola in faccia, ok? È una situazione violenta È una situazione che lui vivrà nuovamente poi quando andrà a Baghdad Lui stesso rischierà nuovamente la vita Perché la sua jeep viene colpita da un missile RPG Rischia di perdere un occhio E lui è un figo perché ci trasmette queste emozioni che lui sta vivendo Lo vedi che non è una pure e semplice documentazione dell'evento C'è la sua anima in queste fotografie Infatti nel 2005 lui entra a far parte di Magnum E se lo meritava perché poi non si ferberà comunque Lui ci porta in Venezuela dove realizza Capitolio Venezuela è una situazione da sempre Socialmente e politicamente molto complicata E lui si fa testimone di queste situazioni veramente assurde Dove tutti sono contro tutti Dove non c'è un'ora di pace Dove chiunque ti può uccidere Dove la tua vita non vale assolutamente nulla Io penso che queste cose qua La guerra, la morte La disumanità di certi eventi La violenza Ti strappa l'anima Questa roba qua ti prende l'anima e te la riduce a brandelli E lui non la perde la sua anima Nonostante tutto quello che abbia vissuto e testimoniato in questi anni Nel 2008 lui è il suo primo figlio E infatti da qui parte tutto il suo filone più personale, più intimo Che è raccolto dentro Son Che è una raccolta meravigliosa dove possiamo assolutamente vedere lo specchio Di quello che è Christopher Anderson E l'amore che lui ha per suo figlio, che ha per sua moglie, per suo padre Lo vediamo tutto in questa raccolta Ed è una raccolta che se la guardi bene ti emoziona, cazzo Sotto qua vi lascio il link alla raccolta Son Che è strepitosa e secondo me merita assolutamente uno spazio nella vostra libreria Assieme a Copp Che è un'altra delle mie raccolte fotografiche di Christopher Anderson preferite Perché in Copp lui ci racconta con tutta una serie di ritratti e di dettagli La vita dei poliziotti americani E lo fa però cercando di dare una compostezza, una dignità a questi esseri umani, a queste persone Ed è una grassa responsabilità quella che lui si prende quando fa questa raccolta Questa è un'altra di quelle serie che secondo me merita assolutamente di essere vista Dateci un'occhiata, vi lascio il link anche di questa E poi lui diventa un resident photographer al New York Times Lui è il primo nella storia del New York Times a diventare resident photographer Lui sarà spesso in Casa Bianca a fotografare la vita dei presidenti Lui ci riuscirà a dare l'ultimo scatto di Obama dentro la Casa Bianca E il primo scatto di Trump nello studio ovale Nel frattempo poi è riuscito anche a documentare tutto quello che riguarda la propaganda politica Con una serie di ritratti in cui lui ci mostra questi politici super enfatici Mentre raccontano i loro discorsi, mentre cercano di coinvolgere le masse, mentre cercano di portare a casa una spicciolata di voti È figo questo modo che ha avuto lui di prendere i momenti in cui c'è l'occhio proprio che ti mostra che questi stanno sbarellando pur di portare a casa due volte in più E questa raccolta si chiama Stomp Anche questa secondo me merita un'occhiata Io onestamente in libreria non ce la voglio avere perché i politici americani mi fanno forse un po' più schifo di quelli italiani Detto questo poi lui ci porta in Cina Ci porta in Cina e ci mostra la Cina odierna, la Cina contemporanea E ce la mostra con un'altra raccolta bellissima che si chiama Approximate Joy Questa è un'altra di quelle raccolte che magari non vorrei per intero però una stampa in casa me la metterei volentieri Non mi posso comprare tutti questi libri perché sarei veramente già sul lastrico Comunque lui ci mostra la Cina, ce la mostra sempre con queste immagini così dorate, così evanescenti e riflessive anche da un certo punto di vista Perché effettivamente ci mostra una Cina che non è esattamente come ce la immaginiamo Noi forse abbiamo un'idea della Cina, specie dopo gli ultimi avvenimenti, un po' distorta No, la Cina in realtà è un paese molto molto avanzato, molto molto moderno Con tutte poi le sue contraddizioni Christopher Henderson mi piace, mi piace da morire È uno di quei tipici personaggi con cui secondo me puoi andare avanti a parlare di massimi sistemi per giorni interi Senza mai stancarti, senza mai giungere alla fine da nessuna parte Perché di fatto anche lui è vittima come tutti quanti della condizione umana Perché lui secondo me se non avesse mai preso in mano una macchina fotografica Probabilmente sarebbe stato un fantastico filosofo E se dovessi rinascere, vorrei rinascere Christopher Henderson Perché mi pare abbastanza un figo, adesso io da uomo non lo so dire Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui anche per il Socks numero 7 Se vi è piaciuta la puntata, se vi è piaciuto Christopher Henderson Cliccate un mi piace qui sotto perché tanto non vi costa nulla Se vi piace la serie cliccate il subscribe E attivate la campanellina quella piccina che c'è di fianco al subscribe Io ragazzi questa sera mi bevo una birretta Sto sul tradizionale Vi saluto, vi mando un abbraccio e ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti